La strategia di Alice Innovation Hub per l'industria 4.0 è quella di supportare le aziende del consorzio Alice in attività di consulenza e formazione che riguardano l'ottimizzazione dei processi e la trasformazione digitale per una serie di applicazioni che vanno dalla manutenzione predittiva alla sicurezza cyberfisica di impianti in ambito manifatturiero e in ambito di gestione dell'energia, principalmente energia proveniente da fonti rinnovabili e quindi fotovoltaico ed eolico. L'industria 4.0 può migliorare il business delle aziende e clienti di Alice Innovation Hub attraverso una serie di iniziative volte a sfruttare il grande patrimonio di dati di cui oggi attraverso le più recenti tecnologie disponiamo. Infatti a partire dalla raccolta dei dati attraverso la preparazione e l'analisi degli stessi provenienti da sensori smart, soprattutto in un contesto di Internet of Things, è possibile aumentare la connettività e favorire un elevato grado di automazione che progressivamente consente la riduzione dei costi dei processi e anche di raggiungere quello che è un obiettivo che tante aziende si sono poste, che è l'obiettivo del zero shift, cioè avere il minimo possibile idealmente zero in termini di supervisione umana sui processi che caratterizzano il business dell'azienda. A supporto del raggiungimento di questi obiettivi intervengono varie tecnologie con le quali noi abbiamo a che fare tutti i giorni, come il cloud computing, l'edge computing e anche le reti mobili 5G. Includere l'industria 4.0 nel business di Alice Innovation Hub è a un costo in termini di formazione di figure dedicate e principalmente figure che abbiano la capacità di analizzare e gestire il grande patrimonio dati che i nostri clienti ci mettono a disposizione, a partire dal data analyst che svolge le attività di analisi in senso stretto sui dati, fino ad arrivare al data scientist che elabora e gestisce modelli più complessi, passando per il data engineer che è la persona che cura l'infrastruttura dati generalmente ospitata in un ambiente cloud, fino ad arrivare al business translator che ha il compito di tradurre i risultati delle analisi condotte dai data analyst e dai data scientist in insight e suggerimenti utili al business per raggiungere gli obiettivi di automazione e di riduzione dei costi. Implementiamo questa strategia di formazione di figure che poi possiamo riversare nel mercato dell'industria 4.0 perché ad oggi c'è una fortissima richiesta di profili che posseggano queste competenze. Grazie a tutti.